Il raffronto tra il primo semestre 2017 e il primo semestre di quest'anno, i dati ci dicono che i reati predatori, che sono quei reati che incidono maggiormente sulla sicurezza percepita da parte dei cittadini, diminuiscono sensibilmente intorno al 13%. In particolare i furti in abitazione, quelli che sono ancora più negativi per i cittadini, diminuiscono addirittura del 16%. Di contro l'attività delle forze dell'ordine, dell'arma in particolare, è sempre più incisiva. L'attività odierna dimostra l'attenzione che l'arma dei carabinieri ha per contrastare questi fenomeni di bande di spesso soggetti provenienti dalla provincia napoletana o anche dall'agrono Cerino Sarnese, che compiono numerosi furti quasi a ondate. Quindi questa è la terza attività dall'inizio dell'anno, per il contrasto di furti in abitazione e furti di veicoli, e altre sono ancora in corso, quindi la nostra attività sarà sempre al massimo.